Un bilancio solido perché sono puntuali sia la scrittura delle entrate e quindi coerenti sia quelle delle uscite. In secondo luogo è un bilancio che mette dentro la norma salvabruzzo, che libera risorse soprattutto per finanziare il trasporto e a maggior ragione il sociale. L'altro tema che va sottolineato di questo bilancio è che in questi anni l'indebitamento è sceso. Così l'assessore regionale al bilancio Silvio Paolucci che ha presentato a Palazzo delle Micicoli il bilancio di previsione 2018 approvato dall'Aggiunta e che dopo il passaggio in commissione dovrà approdare entro l'anno in aula per l'approvazione. Un bilancio complessivamente da 6 miliardi e 14 milioni di euro, di essi 2 miliardi e 779 mila euro riguardo il perimetro della sanità. Il bilancio regionale al netto di tale perimetro della sanità è dunque di 3 miliardi e 235 milioni di euro. Tolta questa somma le partite di giro, la spesa regionale effettiva è dunque di 1 miliardo e 196 milioni di euro. La restante parte della spesa, sottratta cioè alla spesa obbligatoria a quella vincolata, sarà pari infine a 153 milioni e 579 mila euro. Ed è questa la cifra che consente un'effettiva libertà di manovra suddivisa tra le macrovoci di cui si compone il bilancio regionale. Tra queste voci la più consistente sarà quella del Fondo Unico per i Trasporti, 45,2 milioni, a seguire il funzionamento del Consiglio regionale, 24,4 milioni, il Fondo Sociale, 11 milioni, a cui si aggiungono però altri 9,7 milioni sempre per interventi nel settore sociale, 11 milioni per le compensazioni degli eco-incentivi tra Stato e Regioni. Scorrendo la lista della spesa prevista, spiccano poi 4,8 milioni per il settore agricolo, 4,3 milioni per l'Azù, 3,8 per la protezione civile, 2,5 per il piano marketing dell'aeroporto di Pescara, 1,1 milioni di euro per la cultura, 5,6 milioni per indennizi da vaccinazioni. Quasi conclusa una rendicontazione che ha messo fine alla mancanza di questi accertamenti procedurali contabili di ben 12, 13 anni. L'ultima volta è stata fatta nel 2004. Siamo noi che abbiamo messo mano a una rendicontazione così puntuale da rendere finalmente i nostri documenti molto più solidi, molto più veritieri, molto più trasparenti.